A Cremona solo il 2,9% della popolazione residente risulta disoccupato, 8.300 in valore assoluto, uno dei dati più bassi in tutta la Lombardia, specie se confrontato col 20% di Milano, col 10% di Brescia o anche col 4,4% di Mantua. Meglio di Cremona solo Lodi col 2,4% e Sondrio con l'1,9%. A dirlo è proprio la Regione che ha così annunciato anche lo stanziamento di oltre 10 milioni di euro per percorsi di inclusione a vantaggio di chi si trovi in condizioni di vulnerabilità o disagio. Di questi 10 milioni, 380 mila euro sono quelli stanziati per la nostra provincia che conta 65.400 inattivi, 54.600 sono coloro che si sono rivolti ai servizi socioassistenziali e 7.700 invece quelli che si sono rivolti ai servizi per il lavoro.